Sì, posso farcela. Buona fortuna. Chiudo? Beh, hai piantato le tende. Quindi pensavate di accamparvi qui e saccheggiare le loro spedizioni di scorte? E la vita è molto più complicata. Alli sulle spalle, vai! E vedi a chiare. Non so dove ti nascondi. Ottimone, prendilo! Al volo! Mi ha sparato! Ok. Ok. Mi ha sparato! Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono finiti? Ok, sì. Sono finiti.